Come ho fatto a diventare famoso? Ora ve lo racconto. E asciugati la faccia, che sembri una cernia in padella. Ogni bambino bullizzato diventa famoso grazie alla vendetta. Onypsilon è l'influencer del momento. Ti ho portato alcol e droga. Non bevo e non mi drogo. Ti presento la tua nuova fidanzata. Hey Mr. On, why? Why is your name like that? Famous, but invisible, like women in your eyes. Hey Mr. On, why? What does that dash mean? The mysterious celebrity is you and not me.